A segnalare che corre senza feri Leonard Leo, così come Napoleon Kaff, senza feri posteriori Nando Fonte, i cavalli entrano in pista per il primo segnale. Sembra convalidato il primo segnale, c'è stata incertezza sia per Richter Del Ronco che per Nevi B. Ora sbaglia e viene squalificato Mig N, mentre dalla seconda fila fortissimo New Photo Guy che in breve toglie il comando a Leonard Leo che precede Red Fire Thor, poi Napoleon Kaff, quindi Nevi B, ancora Maestrale Spin, Febbo Rivarco e Nando Font, tutti in fila indiana. 32 abbondante per i primi 400, diviso in 17 e 15, guida sempre New Photo Guy con il quale ha indovinato la partenza Roberto Andreghetti approfittando anche di un po' di indecisioni degli avversari fra cui Richter Del Ronco e Mig N e adesso viene incalzato e impegnato New Photo Guy da Red Fire Thor con Pietro Gubellini, ma New Photo decide di correre davanti e Red Fire può ripiegare nella scede battistrata davanti a Leonard Leo e poi Napoleon Kaff, 1.3 agli 800. Andiamo a vedere che il primo giro con partenza da fermo è nell'ordine del 1.18 abbondante per New Photo Guy che ha deciso di correre al comando, si è scavato il posto nella sua scia Red Fire Thor scavalcando di precisione Leonard Leo, mentre ora c'è la risalita decisa di Febbo Rivarco che vince una opposizione di Maestrale Spin il quale puntava a prenderne la scia. A largo ora anche Napoleon Kaff, Nevi B e Nando Font. Siamo al secondo passaggio di fronte alle tribune, posizioni si sono assestate, guida New Photo Guy a largo Febbo Rivarco in corda Red Fire Thor con all'esterno Maestrale Spin che si porta presso Napoleon Kaff, l'ho steccato Leonard Leo e poi ancora Nevi B e infine Nando Font a chiudere il drappello, mancano mille metri alla conclusione, il miglio in 2,3 e 7 decimi, si è accelerato un po' l'ultima frazione in 29 e mezzo. Il primo mezzo miglio quindi nell'ordine dell'1 e 17 per il leader New Photo Guy con Roberto Andreghetti, trascorsi altri 200 metri siamo all'attacco del penultimo rettilineo con New Photo Guy che ha la Salchi Febbo Rivarco, quindi Red Fire Thor che ha all'esterno Maestrale Spin, a largo di tutti prova ora a muovere Nando Font a girando Nevi B e andando al lato di Napoleon Kaff mentre perde battute Leonard Leo. 14,5 l'ultimo paletto, Febbo sta impegnando New Photo Guy che reagisce ancora bene, in corda si mantiene Red Fire Thor, a largo Maestrale, in terza prova a farsi avanti Nando Font, per il momento non guadagna moltissimo, Febbo insiste su New Photo Guy, via i tappi a New Photo Guy, New Photo alla corda, Febbo lì a ridosso che si appoggia un po' in giù, ecco si riorganizza e ora spera l'attacco, New Photo Guy, Febbo Rivarco all'attacco di New Photo Guy, sempre poter prendere il sopravvento, scappia, sgabbia, Red Fire, Tor, mancano cento al palo. Febbo Rivarco in vantaggio, ha sgabbiato Red Fire Thor, va a inseguirlo lungo la corda, Varco per Napoleon Kaff che attacca Febbo Rivarco, Napoleon Kaff che passa di giustezza, ritorna Febbo Rivarco, forse un contatto fra i due. Eh ho la sensazione ci sia stato un contatto. sul traguardo, ci deve essere stato probabilmente un piccolo contatto fra i due, forse un agganciamento perché Napoleon Kaff sembrava passare di slancio su Febbo Rivarco, poi però ha rallentato nelle ultime battute. Vi vediamo con questa inquadratura, forse riusciamo a vedere meglio, Napoleon che filtra all'interno di un Photo Guy e poi prova l'attacco all'interno di Febbo Rivarco, a largo intanto c'è il fattore, ecco il momento, vediamo i rotini, i rotini. Eh vedete questo? Eh vedi, monta su, è il momento in cui Napoleon Kaff sembra passare, poi c'è chiaramente la ruota di Napoleon Kaff che va dentro al salchio di Febbo Rivarco. E qui a questo punto bisogna vedere se Febbo è ritornato giù e c'era lo spazio per entrare o se non c'era lo spazio per entrare, quindi questo lo potrà vedere soltanto la giuria eh basandosi ovviamente sulle immagini che gli vengono fornite dalla frontale. Noi più di tanto non possiamo fare. E' già, è già suonata la sirena, è già suonata la sirena. Fra loro è suonata la sirena, quindi. Rivediamolo ancora una volta. Ufficiosissimo l'ordine d'arrivo ovviamente nove, sette, due. Andiamo a vedere chi è giunto quarto sul traguardo perché non sappiamo quali posti. Sì ma non credo ci sia passibilità di squalifica eh. L'unica cosa che può essere è un'inversione dell'ordine d'arrivo. Forse sono dei primi due eventualmente. Sì 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 se ci sono i termini sul palo è nove sette poi vedremo due al terzo posto e potrebbe diventare sette nove due secondo me.